Massimo, un applauso raga, con la birra in mano, che piacere, che piacere, che stile è anche tu, è spento, è spento il microfono, è spento il microfono, si sente? Ok, 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 che non so come si cammina con queste scarpe, ho pure di inciampare i segreti, che poi, bella a tutti, io ho mandato una mail a Oliver dicendogli, fallo venire vestito elegante, Oliver mi chiami e mi fa, non so se verrà vestito elegante, però con la birra in mano perché spezza il vestito, Andiamo a vedere la prima foto che ci parla di Massimo Pericolo, volevamo chiederti cosa toglieresti dalla vita di prima di 7 miliardi di Massimo Pericolo e cosa invece vorresti aggiungere? Di nuovo la scheda elettorale, no, allora, questa toglierai dalla vita di prima, in realtà niente, perché comunque mi ha portato alla vita di adesso, però un po' di depressione la toglierai, sinceramente, un po' sì. Pericolo, e invece nell'ultimo anno, qual è una cosa che faresti diversamente? Allora, aspetta, pensaci un attimo, ve l'ho detto una cosa, una cosa che ho ammirato tantissimo, è stata, tu non so, magari dico una cazzata, correggimi, a un certo punto hai scritto Fabric o era Alcatraz? Era Alcatraz. Dipende da cosa stai dicendo, però l'ho fatto tutte e due. Senza fare sold out, comunque una figata. Ah, era un altro, no, forse era un Fabric, non di Milano, però era tipo Fabric di Torino, gang. Quella cosa lì ha spaccato tantissimo. Cioè, boh, in realtà l'ho fatto perché mi faceva ridere, non era una cosa eroica di dire, non l'ho fatto sold out, però, no, sì. Nell'ultimo anno, cos'è che faresti diversamente, tornando indietro e ripensandoci? Cioè, c'è una cosa che magari correggeresti? È una roba che mi manda i sbatti, che in realtà è una cosa che magari so solo io, però la dico perché magari è interessante sentire da fuori. Il fatto che io, cioè, ho sempre ascoltato tanti artisti e me li sono trovati tutti, tipo, in una botta solo nel DM, a dirmi facciamo il pezzo insieme, facciamo quello. E ovviamente io, cioè, ho tipo una malattia che veramente vorrei dire di sì a tutti sempre, però mi scontro proprio con la realtà delle cose, cioè non ce la fai. E quindi questa è una cosa che avrei dovuto gestire un po' meglio. Non che adesso, vabbè, ci abbia dei problemi, però comunque mi pesa magari dare una parola che non riesco a mantenere. Che stile? Che stile? Torve? E se 7 miliardi era un po' un grido di disperazione, oggi ti senti cambiato? Senti ancora dentro? Sicuramente sono cambiato, cioè, al di là di come mi sento io è un dato di fatto, cioè la mia vita è diversa, quindi ovviamente cambia anche quello che provo. Poi di base ai sentimenti comunque sono sempre quelli, per chiunque, quindi li provo in altre situazioni diverse da prima, però sono sempre un essere umano. Non è cambiato tantissimo. Posso dirti che dalla volta che abbiamo fatto l'intervista ti vedo molto più rilassato? Ho bevuto più birra da quella volta, sai quanto l'ho bevuto da quell'intervista? Hai avuto paura per un periodo di essere il massimo pericolo di 7 miliardi? Sei riuscito a staccarti da questa cosa? Ho avuto paura che gli altri mi vedessero così, un botto. Sei riuscito a staccarti da questa cosa? Penso di sì, cioè comunque adesso fanno i meme su fatto che mi fanno ridere Tacchino, non so come già, non è più mi sono fatto due anni. Vai, anche io sono cresciuto nella tua stessa provincia di Varese, so cosa vuol dire essere un rapper di provincia, però secondo te oggi è cambiata quella percezione, la difficoltà di uscire, anche fibra che viene da Senigallia. Secondo me non è cambiata, purtroppo no, cioè anche perché comunque il fatto che, almeno penso, poi magari dico anche una cazzata su sta cosa, tanti si spostano, cioè nel senso che tutti i rapper comunque che hanno fatto qualcosa si sono spostati a Milano, comunque nelle città, addirittura chi stava in altre città comunque tipo Roma o Napoli così è venuto su. E quindi questa cosa secondo me non permette, ma non è colpa di chi si sposta, è così punto, la provincia è una merda sotto questo aspetto e sarà sempre così. Conosco bene, siamo d'accordo. Vediamo la seconda foto, ti va? Vai, seconda foto. Che stile anche qui, no? Me lo dico da solo, sì. Mi racconti come è nata questa copertina? Casuale, vero? Oppure ti ho detto voglio fare la foto così, messo in questa posizione? No, 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 ci ho proprio pensato. Ci ho detto come cazzo la faccio la copertina, no? Poi in realtà anche il grafico con cui lavoro, Stefano, Adamo, ha avuto questa cosa di mettere una copertina che è un classico, tipo adesso non mi ricordo di chi. In questa posa qua, praticamente, senza pistola, vabbè ovviamente è vestito diverso. E l'abbiamo rifatta perché la mia idea era comunque di puntarmi una pistola in testa e mettermi le orecchie da gatto e... Alla fine il compromesso è questo. Cosa cambieresti di questo disco? Ci aggiungeresti di featuring? Ma parlavi di featuring? Featuring qua dentro? Sì. No, 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 easy così. Ok, easy così. Torna? Visto che tratti comunque dei temi che parlano molto del sociale, cosa vorresti cambiare nella mentalità, poi venendo anche da una provincia come quella di Varese, cosa vorresti cambiare di base nella mentalità un po' della gente, se ne avessi il potere? Aspetta, sto zitto per un po', perché ci devo pensare. Ce ne sono un po' di cose da cambiare. Non so da dove cominciare. Ma in generale questa è una cosa di tutti, proprio di pensare un po' ai cazzi propri, in pochi lo fanno. Non è tanto il giudizio, nel senso, puoi giudicare in casa tua, per te, per i tuoi figli, però si rompe troppo le palle al vicino, nel senso metaforico. La traccia è che secondo te era una hit, ma che non è arrivata a quanto aspettavi. Cioè, qual era un pezzo che ascoltandolo mentre facevi il disco dicevi questa che quando esce spacchiamo tutto e poi alla fine ho detto, forse mi sbagliato. Che comunque ha spaccato, però che magari non è arrivata dove arriva una hit, ma perché effettivamente magari è un po' a scarna proprio la canzone. Però per me è figa per quello, Cocco. Ok. Visto che è una delle tracce preferite anche dell'albume Amici, qual è la differenza fra la scelta giusta e la scelta migliore? Cazzo che domanda. Spesso la scelta giusta la sai solo tu, mentre la scelta migliore è una cosa che sanno tutti, tra virgolette. Stile. Allora. Grazie, raga. Prima abbiamo spoilerato l'ultima foto. Parlando di amici. Allora. Una volta Marra mi disse una cosa. Mi disse, in Italia molto spesso nel rap manca la riconoscenza. Questa cosa del riempire i club con i tuoi amici, per me è una cosa che è assurda per il rap oggi, no? Sai, quando uno spicca il volo spesso lo spicca da solo, no? Ok. Come è stato riempire i club con i tuoi amici? Una figata, nel senso che comunque la cosa è nata da prima, quindi il discorso non è tanto legato al rap quanto proprio al rapporto umano che c'è da prima della carriera, non solo mia, ma anche quella di Speranza e di Barracano. Per me sono Ugo e Raffi Lucio. E' stato bello perché in quegli anni ci siamo sentiti costantemente, soprattutto con Raffi, poi quando Ugo è salito a Milano la storia è bella, la sapete tutti più o meno. Ci siamo incontrati più volte e abbiamo visto crescere piano piano una cosa che ci ha legati ancora di più. Ecco, sai che vi ha... Però appunto la riconoscenza c'è a livello umano. Secondo me i rapporti comunque, ok, va bene il rap, va bene le cose, però ti trovi in quella situazione che hai voluto fare il musicista e conosci altri musicisti. Pensi che sia più il percorso. Fino a prima, capito, non era nessuno il collega, ci può essere la riconoscenza, però è ovvio che c'è un rapporto nella vita privata e è molto più forte. Questa cosa va mantenuta, secondo me, più del... Assolutamente. E' più il percorso che avete fatto molto simile, pensi, oppure uno stile musicale che vi accomuni? Secondo me è più la sensibilità nostra al modo di raccontare, quello che abbiamo vissuto in generale. Poi come stile, se guardi, c'è speranza diverso da me, come Rafi. Però l'approccio è abbastanza violento entrambi. Cosa deve succedere nel prossimo anno affinché tu sia soddisfatto? Cioè il futuro di massimi pericoli... Sì, di massimi pericoli, stavo dicendo. Allora dai figli li chiamerò massimi pericoli. Il futuro di massimo pericolo è più 7 miliardi o più appartengo? Non... è tutte e due. Ok. Sì. E cosa deve succedere nel prossimo anno affinché tu sia felice e soddisfatto? Musicalmente è la mia vita. E entrambi? Entrambi. Faccio un disco così bello che mi compro la casa. E te lo auguriamo di brutto. Tormello, recuperi tu il premio? Vai, con piacere. Grazie mille. Grazie a voi. Grande Massimo, mamma mia. Che capo. Perfetto è tutto. Grazie mille ragazzi, un applauso a Massimo Pericolo. Grazie mille. Yeah, 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 yeah. Dico di sì perché insisto, anche se insisto, no, non ci vengo alla festa di questo, neanche se fosse la festa di Cristo e poi... E da un po' che non ne esco, l'ultima volta facevo...